Uomini e donne over, Sossio e Riccardo litigano miei spinto. Il trono over di uomini e donne continua a riservare molti colpi di scena e anche liti tra i cavalieri. Tensione altissima a uomini e donne over in questi giorni. A tenere banco sono le ex coppie storiche, come quella formata da Gemma e Giorgio, che ancora una volta è stata protagonista di nuovi chiarimenti. Nonostante le lacrime e le richieste della povera Gemma, quest'ultima ha ricevuto ancora una volta un no, dal gabbiano. L'atteggiamento del cavaliere però è stato molto criticato dal pubblico e anche da Tina, che ha chiesto all'uomo di parlare chiaro una volta per tutte con la Galgani. Gemma infatti continua a non darsi pace, pensando che Giorgio la voglia ancora, ma che non lo confessi perché troppo influenzato dal giudizio di chi c'è in studio. Avrà ragione? Riccardo e Ida lei esce dallo studio. Ma molte accese discussioni sono sorte proprio in questi giorni anche tra altri pretendenti. Si tratta di Sossio e Riccardo, che hanno litigato. Come tutti sapete, Riccardo e Ida si frequentavano da alcuni tempi, ma lei, convinta di non potersi fidare di lui, perché lui era piuttosto restio a raccontare del suo passato, ha deciso di conoscere altri uomini, Sossio e Angelo. Poi ha deciso di tornare da Riccardo ma questi nel frattempo ha iniziato a vedere Donatella, una persi nel trainer. Ida a questo punto ha confessato di aver visto anche delle foto della donna sul cellulare di Riccardo. Lui a sua volta avrebbe mandato a Donatella delle foto sue per avere dei consigli estetici e sportivi. Ida allora ha accusato l'uomo di essere un bugiardo perché le aveva detto di non aver mai inviato foto a Donatella e ha lasciato lo studio in lacrime. Dopo questo gesto Ida è stata raggiunta da Angelo e Riccardo invece ha deciso di conoscere una nuova pretendente. Sossio e Riccardo litigano mi hai spinto. Ma a quanto pare le cose non si sono risolte neppure tra Sossio e Riccardo, che hanno litigato durante la puntata. Mentre Riccardo e Ida discutevano, la ruta ha ironizzato sul rivale e anche Gianni ha giudicato il comportamento di Riccardo, come quello di un tipo inaffidabile. Poi Riccardo, passando di fianco a Sossio, mentre rientrava in studio ha voluto puntualizzare, che forse Sossio aveva bisogno di una camomilla. Sossio gli ha detto che forse era lui quello nervoso, dopo la discussione con Ida. Riccardo lo ha accusato di aver fatto finta di farlo passare per poi spingerlo. Sossio gli ha risposto che se l'avesse spinto, si sarebbe trovato a terra e Riccardo ha continuato a dire che non se l'era inventato. Per Sossio era solo un modo per attirare ancora attenzione.